Io li sarò padre, e li mi sarà figo. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, Tu sei nostro padre, noi siamo argilla e Tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle Tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. E' significativo che nei brani del profeta Isaia, la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre d'Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Gesù Dio non èlynamente. Adveni a tregnun tu, e ad volontà stua, sicur in cielo ed in terra. Padre nostro quotidiano, da nobis odie, e dimitte nobis le vita nostra, sicur in nostri vittimum, dei vittori vus nostri, e tre rossi in duca, in tentazione, sed liberano s'ammano. Adveni a tregnun tu, e ad volontà stua, sicur in terra. Adveni a tregnun tu, e ad volontà stua, sicur in nostri vittimum, dei vittori vus nostri, vedremo in duca, in tentazione, sed liberano s'ammano. Adveni a tregnun tu, e ad volontà stua, sicur in nostri vittori 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 vittori, 工作. Grazie.